Con l'arrivo della stagione estiva i cittadini si ritrovano a fare i conti con il caldo e le temperature elevate, ma spesso a fare la conta dei danni provocati dalle temperature e dagli incendi più volte scaturiti dalla mano dell'uomo e l'ambiente circostante. Per l'estate 2019 i comuni della provincia di Salerno hanno emanato un'ordinanza per la prevenzione degli incendi con sanzioni fino a oltre 10.000 euro per chi non rispetta le regole. A tal proposito ad intervenire con consigli utili il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno Rosa dell'Iseo. L'estate ormai si è avviata e quindi possiamo dare dei consigli utili a chi ascolterà la sua intervista e magari anche dei numeri utili. Assolutamente, innanzitutto il controllo del territorio, evitare l'accensione dei fuochi vicino ai boschi e evitare ovviamente l'incendio anche di piccoli rifiuti per evitare che gli stessi possano causare innesco poi al bosco o anche a serpaia e quindi di conseguenza propagare l'incendio, non sparare i fuochi. Del resto anche il sindaco stesso ha ricevuto dalla prefettura di Salerno una circolare sulla base della quale poi elaborerà un'ordinanza comunale che prevede una serie di attività che devono essere escluse in quelle del territorio comunale e quindi anche ovviamente di tutto il territorio dell'ente parco. Quindi attenzione all'accensione e quindi io escluderei sicuramente l'azione dolosa sulla quale ci sono altri organi dello Stato che indagheranno e effettueranno i necessari controlli. Però ritengo di richiamare molta attenzione proprio sull'attività che può sembrare a volte banale ma di accensione per liberare magari un campo della serpaia oppure di residui vegetali che sono per lo più poi causa della propagazione di un incendio. Per nascere un incendio ci vuole poco, per domarlo se non viene preso in tempo utile ci vuole tantissimo, ci vogliono tanti uomini, tante risorse e quindi direi veramente un'attenzione alla popolazione a tutelare il proprio territorio. Territorio tra l'altro veramente molto bello che vedo oggi per la prima volta e quindi ci dobbiamo tenere un po' tutti. Noi per la lotta e voi ovviamente per il rispetto del territorio. La parte operativa del coordinamento antincendi per legge spetta alla regione Campania. Quindi tutti gli interventi dovranno essere chiesti alla sala operativa provinciale di Salerno sostanzialmente che copre la provincia, Salerno e provincia. Però naturalmente esiste un'intesa tra la sala operativa dei vigili del fuoco e la SOPI provinciale in base alla quale se l'utente fa il 115, quindi il numero dei vigili del fuoco, noi ovviamente interveniamo con le nostre forze e inviando poi la richiesta di intervento e quindi il fatto che noi usciamo alla SOPI. Quindi c'è una sinergia e un coordinamento anche con la sala operativa provinciale. Quindi anche se l'utente fa il nostro numero, comunque il sistema si mette in moto per l'intervento.